Allora, nel 1961 io ero a Stoccolma da Michel Mesch, ho fatto una stagione con loro, poi sono tornato a Parigi dopo un passaggio a Roma per un festival di marionette e burattini poi Michel mi ha richiamato nel maggio del 1962 perché il suo gruppo era stato invitato a partecipare al festival di marionette e burattini di Varsavia e lui intendeva portare lo spettacolo dove io apparivo in scena. Io sono tornato dunque a Stoccolma per riprendere questo spettacolo dell'anno precedente e nel frattempo ho avuto modo di costruirmi la mia prima marionetta. La mia prima marionetta era una marionetta del tutto tradizionale con una sola differenza, la testa invece di essere una testa diciamo tonda o comunque era schiacciata da una parte in quanto io volevo rappresentare con la stessa marionetta la faccia di un vecchio e quella di un giovanissimo. Perciò mi bastava mettere la marionetta rispetto al pubblico di profilo che si vedeva una o l'altra faccia della stessa. Con questa marionetta io sono tornato in Italia passando per la Francia circa il 20 dicembre del 62 e lì c'erano i miei amici Nini Santoro pittore, Nato Frasca, pittore eccetera e Nini Santoro mi ha proposto di omaggiare il critico e storico dell'arte nell'oponente facendogli in casa uno spettacolino di una mezz'oretta per la notte di Capodanno 62-63. Allora io felicissimo di poter subito esprimermi ho preso una mia poesia che avevo scritto due anni precedenti quando ero a Stoccolmo, una poesia molto triste, una poesia di una certa violenza perché mi ricordo io andai a questo tivo lì e c'era questa sala da ballo dove gli uomini pagavano un ticket per ballare, insomma mi sembrava una cosa, io povero italiano provinciale mi sembrava una cosa spaventosa insomma che se dovesse prendere un ticket per poter ballare con una ragazza devo dire francamente mi fece una sensazione davvero non l'avevo mai vista in vita mia. Allora c'è questa poesia che era molto bella era una bella poesia, con molto ritmo eccetera e su questa montai uno spettacolo di circa mezz'ora al quale spettacolo parteciparono nella costruzione Nini Santoro e Nato Frascà. In sostanza fecero, insomma fecero semplicemente un carousel, un carousel il quale al posto dei cavalli aveva quattro bamboline desnudas di plastica, di come si chiamava quella materia insomma va bene, desnudas, che però per il resto tutto un carousel con il tetto eccetera, che girava, tirando un filo girava. Allora la storia era molto semplice, questa marionetta, poi però Nini mi ha molto aiutato con la musica, cioè dandomi dei dischi di musica jazz molto molto diciamo molto nuovi eccetera eccetera, insomma e poi il mezzo busto della RAI, del quale non ricorderò mai il nome, ma era il primo mezzo busto della televisione italiana, quello che leggeva il telegiornale la sera, mi lesse questa poesia, io vogli che lui la leggesse come leggeva i suoi notiziari, senza nessuna enfosi poetica, lo doveva leggere con lo stesso ritmo, lo stesso suono, la stessa voce con la quale leggeva i suoi notiziari, io poi l'ho usato un'altra volta questo sistema, vabbè, e allora praticamente questo spettacolino era una cosa molto semplice, si sentiva questa poesia, si sentivano queste musiche e la marionetta si mostrava una volta un vecchio bavoso che girava attorno a questo carousel di donnine nude, va bene, ballando anche lui e una volta si mostrava un ragazzo molto felice che insomma vedeva queste belle ragazze che giravano sul carousel, ecco era tutto qui, non ci fosse chissà quale, questa cosa, molto semplice, l'unica novità, se così si può dire, era che il manipolatore, cioè il sottoscritto, era presente in scena, cioè si vedevano le sue gambe, io ballavo insieme alla marionetta, ballavo i ritmi della rumba, adesso non mi ricordo che altra musica ci fosse, al ritmo della marionetta, va bene? Come la marionetta. Perfetto, questa è stata la mia prima produzione italiana e la prima rappresentazione italiana in casa dell'illustre, critico d'arte e storico dell'arte nell'opponente, con presenti, diciamo un po' gli avanguardisti della letteratura e della pittura di allora, cioè tipo Elio Pagliarani, mi sembra ci fosse anche Giuliani, poi c'era Gastone Novelli, c'era Perilli, insomma c'era forse Turchato, adesso non mi ricordo, non mi ricordo, sono passati tanti anni. Da questo siamo passati al 62 al 1963, va bene? E io che ormai avevo 31 anni, ho cominciato a domandarmi cosa faccio da grande? Quindi senza tenere conto che già avevo dieci anni di militanza di lavoro come arredatore, come manovaggio, ho dovuto ricominciare la vita di nuovo, che significava ricominciare la vita? Trovavo un lavoro e insomma, nel frattempo avevo conosciuto Gabriella, la ragione per la quale non sono tornata a Parigi, è proprio lei, io dovevo tornare a Parigi, incontrò Gabriella e rimassi a Roma. E allora feci un progetto, volevo aprire una scuola di marionette a Roma, va bene? Fessi questo mio progettino, andai a trovare diversi amici, conoscenti, amico dell'amico, eccetera, eccetera, ricevendo da tutti calorosi consensi, ma che bella idea, ma che bella cosa, è proprio quello che mancava, ci voleva proprio una scuola di marionette a badabum, di bim, di bim, di bim, chiamami domani, chiamami domani, telefona, ci sentiamo, ti vedrò, ci incontriamo, io telefonavo, ah sei tu, benissimo, chiamami, insomma, la solita merda romana, e non se ne ha fatto niente, però io avevo capito una cosa a Parigi, l'avevo capito in quanto a Parigi funzionava il Tatrino de Poche di Ionesco, io avevo capito che per essere realmente indipendenti e non illudersi di avere l'indipendenza attraverso aiuti di amici, capito? Bisognava che io me aspicciassi da solo, cioè dovevo trovare uno spazio, dovevo trovare i soldi, dovevo mettere in azione questo spazio, ora io lo spazio l'ho trovato, non so ancora oggi dove ho trovato i soldi, giuro non lo so, non so chi me l'ha dati, sì no, so che mi sono sposato con Gabriella, la mamma di Gabriella ci ha dato 500 mila lire come dote e una parte di questa dote è stata data in anticipo alla signora Schiavolena per avere lo spazio di Vicolo delle Orsoline, dove è nato il primo teatrino off-off in Italia. Orsoline 15, allora io però per ingannare tutti, me compreso, ho detto in questo teatrino stava a Vicolo delle Orsoline a punto 15, una traversa di via della Croce dove ancora esistevano artigiani, dove ancora c'erano botteghe artigiane, ma dove già Vertecchi stava invadendo come un polipo la zona, Vertecchi era, carte, cartoni, cartoncini, eccetera, eccetera. Allora io per ingannare il prossimo e me stesso mi sono detto apro un locale dove faccio le cornici per vivere e intanto metto struzza a scuola di marionette, va bene? Tutto questo era una podrida, come si dice, non ricordo, una mentira podrida, perché io non ci pensavo per niente di mettermi a fare il corniciaio, perché il corniciaio l'ho fatto a Parigi per poco tempo, perché voglio dire, va di contingenti, se no chi andava, io facevo la redattore. E ho fatto infatti però, attenzione, ho fatto delle cornici per la Cardi, la pittrina, infatti noi a casa abbiamo un quadro della Cardi perché lei non mi ha pagato, mi ha pagato con un suo quadro, bello, che è molto carino, molto bravo, punto e basta, finito. Invece ha avuto questo spazio, intanto devo fare un passo indietro che è importantissimo, quando io ero a Stoccolma la prima volta, cioè da febbraio a giugno del 1961, ho fatto la conoscenza con uno scultore cinetico che si chiamava, o si chiama ancora spero, Henri Kramer. Questo scultore tedesco, tedesco che però era a Parigi, lui stava a Parigi. Questo scultore cinetico in aprile del 61 è venuto a Stoccolma con un suo, chiamiamolo spettacolino, non perché fosse in senso di spettacolino, perché era piccolo, che era fatto con delle sue sculture cinetiche, dunque che avevano un moto proprio, e delle marionette, marionette non proprio, erano delle marionette che facevano pensare molto a Cle e Candischi, erano delle forme antropomorfe che in qualche modo somigliavano molto molto distante all'uomo, alla donna, c'è, però erano disegni di, sono sicuro che lui si fosse ispirato a Cle e a Candischi. Benissimo, questo spettacolo mi ha assolutamente sconvolto, nel senso che era uno spettacolino realizzato in uno spazio che in genere si dedica alle marionette, cioè sono spazi che vanno dai tre metri di larghezza, un metro di altezza e un metro di profondità, coperto in fondo da una grossa quinta, di un modo che il manipolatore, l'animatore, non si vede e può muovere i fili delle marionette senza essere visto, va bene? Allora, queste sculture avevano delle parti dipinte e praticamente questo spettacolo era fatto di quattro pezzi, i primi tre pezzi erano fatti con delle marionette dove le marionette si muovevano al ritmo della musica attorno a queste sculture le quali sculture si muovevano su se stesse essendo cinetiche e tutto sommato era veramente attraente, era una cosa veramente criminalica, tutto era basato sul movimento, le luci, una sapientissima colonna sonora, insomma un'ora di spettacolo che ti teneva avvinto e dove in effetti non succedeva niente, niente. L'ultimo pezzo che doveva dieci minuti era quello che più mi ha sbalordito perché in quest'ultimo pezzo non c'erano nemmeno le marionette cosiddette ed erano tre sculture più grandi, colorate in più, ognuna colorata con colori diversi in più parti, queste luci tagliate, la colonna sonora e praticamente lo spettacolo era il movimento autonomo di queste sculture, il movimento delle luci, il movimento che i colori realizzavano, i colori delle sculture muovendo, girando su se stesse eccetera eccetera, tutto questo durava dieci minuti e io mi ricordo rimasti veramente il movimento autonomo di questo spettacolo. E quello spettacolo l'ho visto per tutte le sere, per un'intera settimana, tutte le sere, la sua memoria. Quando sono tornato a Parigi viveva allora in casa del mio amico Jean-Claude, pittore, gran signore e gli ho parlato della mia esperienza svedese e gli ho parlato soprattutto di questo crame perché effettivamente l'esperienza fatta con Michel Mersk non era molto interessante per uno come me che quasi naturalmente era proprio, posso dire, quasi obbligatoriamente spinto verso le avanguardie. Voglio fare una piccola parentesi. Nel 1956 è stata fatta la prima mostra di Via Margutta alla quale hanno partecipato i grandi pittori di Roma, Turchato, dei Sacchi, Burri, insomma tutti i grandi pittori che lavoravano nella capitale. E io che francamente, intanto ero giovanissimo, 24 anni voglio dire, non avevo cultura in quel senso, non conoscevo niente in sostanza, sono andato perché ero attratto, ero attratto come davvero, ero attratto come una mosca sulla torta, non dico la merda perché poi sta male, però sulla torta, capito? Io sono andato via, trascinandomi dietro degli amici e non gliene fregava assolutamente niente, proprio non gliene fregava niente. E io mi sono fatto via Margutta 20 volte avanti e indietro, ma soprattutto quando ho visto i quadri di Burri, di Burri, sono rimasto sbalordito. affascinato, perché non lo so. Io penso veramente che c'era in me una predestinazione. Io ero portato per l'avanguardia, ero portato per l'avanguardia più estrema, perché Burri nel 1956 era l'avanguardia estrema, quelle delle bruciate con quei colori, quei rossi. La capivo? Non lo so. Oggi potrei discutere, ma allora non ho. Mi mancavano proprio le parole, mi mancava il lessico, capito? Però ero affascinato, ero affascinato. Ti dico, mi sono fatto quella mostra 20 volte su e giù per via Margutta, guardando tutto. Io da quel momento andavo a cercare quelle stesse emozioni e soprattutto che volevo capire, soprattutto volevo capire, volevo sapere. E avevo il mio amico Jean-Claude, che l'anno successivo è venuto a Roma e si è fermato per quasi un anno a casa nostra e lì io ho appreso molto. E io stesso, che già avevo cominciato a fare, ero già redatore, guadagnavo un sacco di cose, mi sono messo a dipingere anch'io. Va e quando, dunque, ritorniamo a Stoccolma, rientro a Parigi, parlo al mio amico Jean-Claude di questa esperienza fatta con Michael Mesch e gli parlo soprattutto di Kramer, perché a me in realtà, oltre all'estrema bravura di Michael come animatore, di marionette, come regizio, non trovavo un grande interesse nei suoi spettacoli, mentre questo di Kramer mi aveva veramente affascinato. E allora, Jean-Claude, è qui la fortuna, tu sei nella vita, devi avere fortuna. Dovrei dire culo, ma insomma, la sua storia, fortuna. Jean-Claude viene e mi porto un libro, ed era il libro di Gordon, in francese, naturalmente, stava in Francia, di Gordon Craig, sulla super marionetta. Io mi leggo questo libro, cioè me lo bevo, mi bevo questo libro in francese, e leggendolo scopro, capisco che nella buona sostanza lo spettacolino ancora una volta, fra virgolette, di Henry Kramer era estratto pari pari dalle teorizzazioni di Gordon Craig. Solo che, sono sicuro ancora oggi, Harry Kramer, Craig non l'aveva mai letto. Perché dico questo? Non per cattiveria, per coscienza. Dico che lui non l'aveva letto perché primo io ho passato una settimana con lui e lui non me ne ha mai parlato. Ora, fosse stato l'italiano aveva poco significato che non me ne avesse parlato, perché gli italiani hanno vergogna di ammettere che qualcuno, prima di loro, abbia fatto delle cose, capito? Mentre tutti gli stranieri, tutti che io ho conosciuto, americani, tedeschi, francesi, spagnoli, loro ti dicono, sai, io ho visto Dalì, io ho visto Picasso, io ho visto… ho capito e mi sono messo a fare… capito? L'italiano non lo dirà mai, sembra che sempre sia lui che ha tutto inventato, tutto scoperto. Siamo un po' po' di cialtroni, inutile che stiamo a giocare con la Nizza. Allora ho letto questo libro e non è che ti dico, ho capito tutto, non ho capito niente. Al solito ho letto questo libro e sono rimasto molto affascinato. perché? Perché questo qui parlava, primo, di un teatro dal quale venivano messi fuori gli attori. Allora tu ti domandi subito, ma che teatro è se non ci sono gli attori? Va bene? Ma il fatto che avessero tirato fuori gli attori significava pure che questo teatro era fatto senza un testo. Mi segui? Quindi ci trovavamo di fronte a una proposta fatta alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, assolutamente rivoluzionaria, molto di più di quanto era stato fatto fino allora. Questo parlava di un teatro che non era più teatro, inteso in nessun senso, va bene? Parlava di una super marionetta che avrebbe dovuto sostituire l'attore in tutto e per tutto e rappresentare essa e rappresentare essa lo spettacolo. Che spettacolo? Tutto va a inventare. Dove? In questo spettacolo, re trainante era il movimento. tanto, tant'è vero che una delle sue cose che mi ha colpito, che io ho sottolineato e che poi hanno fatto il mio teatro d'immagine, a un certo punto dice che il teatro di domani sarà teatro di movimento, laddove la figura umana, dunque l'attore, sarà esclusa in quanto egli è là per, se non mi ricordo bene, confondere il nesso fra la realtà e l'arte. Capito? Questa è un'intuizione, perché tu arrivi a questi dimidi quando, non attraverso, questa è un'intuizione, lui ha visto, perché lui questo teatro non l'ha mai fatto, la super marionetta, non l'ha mai costruita, lui non ha mai fatto uno spettacolo, l'unico spettacolo che ha fatto, l'ha fatto nel 15 al teatro di Mosca con Stanislavski, un amleto che è stato uno schifo, va bene? Io mi permetto di scherzare su queste cose, perché vale sempre una pena scherzare, secondo me lui questa teoria la tira fuori proprio in odio verso sua madre, sua madre era una grandissima attrice, allora in pieno auge, quindi non stava mai a casa, girava e sto porro ragazzino l'avrà lasciato solo e lui a un certo punto per vendicarsi ha scritto un teatro dove non ci sono gli attori e quindi sua madre sarebbe rimasta in casa a caso di occuparsi di lui. Ma tutto questo non è che io ho detto questa cosa adesso io, niente, questo io l'ho immagazzinata come tante altre cose della mia vita, l'ho immagazzinata, perché siamo ancora, quindi siamo nel 61 ancora, il mio primo spettacolo come ho detto è il 64 ma ancora non c'è niente dell'ipotesi del teatro immagine, l'ipotesi del teatro immagine viene attraverso la sperimentazione. Scusa un attimo, il movimento a casa di Nello Ponente è il 64 o il 62? 62, io nel 63 faccio il morto da fame. 62, io nel 63centrale acc routinesi di R Defense Pornale in abitruzione來 in piccola sicramente andrerellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellelleione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.